Ciao, benvenuta o benvenuto sul mio canale. Oggi voglio proporti una nuova pillola, ma non di medicina, una pillola video di un borgo italiano. Prima però ti chiedo la cortesia di un like al video e se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale e cliccare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Per te un gesto semplice, per me una enorme gratificazione che probabilmente farà crescere il mio canale, Borghi, in pillola, in camper. Grazie, buona visione e vai con la sigla! Ci spostiamo adesso a Strangola Galli, un comune di poco più di 2000 abitanti, sempre in provincia di Frosinone perché c'è la decima edizione delle Gantine del Borgo e per l'occasione ci uniamo al mitico gruppo Joe Campbell. L'origine del nome è molto incerta, ma tra le tante ipotesi ci piace ricordare quella secondo cui fu sventato un attacco nemico al Cantar del Gallo, assalto che gli abitanti scongiurarono strangolando tutti i Galli. Questa è la chiesa di San Michele, rimaneggiata nel Settecento, che in pratica apre l'accesso al piccolo centro storico. L'interno è a navata unica con piccole cappelle laterali. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ma eccoci alla manifestazione. In pratica si compra un bicchiere e poi si compra un bicchiere e poi si può bere gratis in tutte le cantine dislocate per il centro storico. Traete voi le conclusioni. grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie